Benvenuti nel canale Lady Gossip, dove i colpi di scena non mancano mai. L'ultima puntata di Temptation Island ha riservato un'improvvisa svolta, il secondo falò di Giuseppe e Gabriela. Dopo essersi separati all'esterno del villaggio, Giuseppe ha chiesto un nuovo confronto. La coppia napoletana aveva partecipato al programma con l'obiettivo di ricostruire la fiducia, poiché Giuseppe era stato sorpreso a chattare con altre donne. Tuttavia, una volta nel villaggio in Sardegna, Giuseppe ha dimostrato di non essere pentito, e Gabriela, a sua volta. Ha reagito baciando il single fuad, decidendo infine di lasciarlo. Ma è stato Giuseppe a prendere l'iniziativa per cercare di riavvicinarsi a Gabriela. Di fronte a Filippo Bisciglia, il conduttore del programma, ha ammesso di doverle chiedere scusa, sono qui perché devo chiederti scusa. È vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Quello che hai pensato era giusto, io sono andato a ballare, ho parlato con altre ragazze ed è vero quello che ho sempre negato, che ti ho tradito. Giuseppe ha proseguito. Dicendo, siamo venuti qui perché ti avevo promesso di farti vedere tutt'altro, e ora capisco il dolore che hai provato in questi anni. Ha poi aggiunto, spero di poter ricominciare da zero e creare una famiglia con te. Perché ti vedo come la madre dei miei figli. Gabriela è apparsa sorpresa dalle scuse del ragazzo, sono cresciuta, i miei pensieri sono cambiati e pretendo altro dalla vita. Voglio essere serena, voglio meritare rispetto e potermi fidare della persona che ho accanto. Se usciamo da qui e le cose che ci siamo dette non verranno mantenute, ognuno andrà per la sua strada, ma sono innamorata e voglio ricominciare da zero. La situazione si fa sempre più interessante e siamo tutti curiosi di scoprire come si evolverà questa tormentata storia d'amore. Continuate a seguirci su Lady Gossip per tutti gli aggiornamenti sulle vite dei protagonisti.